Buon mercoledì 17 giugno. Questa mattina, non so per quale ragione oscura, o per un'intuizione generata da qualche frammento dell'esistenza, così secondo me nascono i pensieri, rispetto ai quali poi bisogna avere la pazienza di ascoltarli, di elaborarli e di farli propri anche quando non li comprendiamo o ci danno fastidio. Ebbene, non so, ripeto, per quale ragione, ma questa mattina mi sono svegliato con la parola narcisismo e narciso. Noi viviamo in un'epoca dove molto spesso viene richiamata come patologica in una precondizione del narcisismo. Veniamo invitati e sollecitati a evitare i narcisisti quando incontriamo. riteniamo che il narcisismo sia una matrice psicopatologica, in qualche caso ovviamente è anche una precondizione per raggiungere posti di potere corroborati da una infinita autostima, che appunto declina in quello che noi chiamiamo narcisismo, è che una ipertrofia della nostra autostima è come contraltare, naturalmente poniamo la condizione della disistima, del problema dell'autostima. E se una persona si presenta in qualche modo timido, reticente, un po' scevro rispetto alle condizioni sollecitanti verso il successo, verso un atteggiamento di accoglienza del progresso, queste persone vengono definite appunto soggetti con bassa autostima e quindi devono essere invitati a sottoporsi a una qualche terapia che correggano questo che è stato definito anche un disturbo di personalità molto controverso tra l'altro, perché questa caratteristica della personalità con ipertrofia della stima nei confronti di se stessi è sicuramente uno degli elementi costituenti per esempio delle carriere politiche e non possiamo non riconoscere che i narcisisti sono profondamente attraenti, perché trasmettono questa idea, questa immagine di essere persone adorabili e in modo abbastanza oscuro capaci di generare una presunta sicurezza in chi li incontra, una sicurezza che è fondata sul fatto di garantire una personalità forte, decisa, da ammirare e naturalmente da desiderare di possedere, diventa veramente l'oggetto del desiderio. Però c'è qualcosa che non mi convince in tutto questo, perché, e ne farò sicuramente una mia forzatura interpretativa del mito di Narciso, che non aveva conosciuto l'immagine riflessa dagli specchi, non aveva la consapevolezza che quello che viene riflesso è l'immagine di sé, e che l'immagine di sé non sei tu, è semplicemente un'immagine riflessa. Questa è una condizione molto difficile. Il bambino, quando per la prima volta si vede allo specchio, non sa di essere lui. Verrà in qualche maniera progressivamente indirizzato a riconoscersi nell'immagine, perché noi non possiamo vedere il nostro volto, se non riflesso, e percepirne la gradevolezza o la sgradevolezza solo attraverso lo sguardo degli altri, che è l'altro elemento dello specchio riflettente. Noi possiamo vedere gran parte del nostro corpo, non tutto. Noi siamo esclusi da poter vedere senza uno strumento riflettente anche la parte posteriore del nostro corpo, la nostra schiena, non la possiamo vedere, se non utilizzando uno strumento, o ancora una volta, se non accogliendo lo sguardo degli altri. Ebbene, Narciso, questo bel giovane, scopre nell'immagine riflessa nell'acqua una bellezza straordinaria che desidera profondamente di possedere, ama la bellezza che in lui stesso è incarnata, ma non lo sa. E questo non sapere, questo non avere consapevolezza dell'immagine che coincide con lui, ma non è lui, lo spinge a un atto che non è intenzionalmente sacrificale, ma che lo porta inevitabilmente al sacrificio. Narciso annegherà nel tentativo di possedere la bellezza che non sapeva di possedere. Questo è un punto molto importante, credo, che secondo me spezza anche una interpretazione del narcisismo come punta estrema di una patologia dello sguardo verso l'ombelico. Narciso non guarda l'ombelico, è attratto dall'immagine e il narcisista non è semplicemente l'ipertrofico della propria autostima, non è la persona che ha consapevolezza di amarsi. Non è questo, è. Narciso non è colui il quale sa di amarsi. Narciso, per me, per come l'abbiamo interpretato, facendo una forzatura sul mito, è quella, e sto parlando non del narciso del mito, ma il narciso che noi abbiamo deciso di classificare nella nostra esistenza. Quel narciso che caratterizza la modernità non è il narciso del mito, è semplicemente una persona che ha piena consapevolezza della centralità dell'immagine, lo sa perfettamente, che cerca in tutti i modi di rinforzarla e costruisce una società nella quale le relazioni sono vincenti nella misura in cui si riesce a concentrare la propria attenzione nei confronti del proprio umbelico e si negano, si negano le relazioni, la centralità delle relazioni, il rapporto con l'immagine è un invito alla dimensione relazionale, è un invito a costruire la nostra essenza, la nostra esistenza nella relazione. se non facciamo questo siamo destinati ad annegare questo ci riporta il mito di Narciso, quindi guardate, non è egocentrismo il mito di Narciso, ma il Narciso che oggi noi abbiamo introdotto nella nostra società è una distorsione del mito e una concentrazione sulla centralità del nostro ego. Abbiamo confuso il Narcisismo con l'egocentrismo. In fondo quel mito è un grande insegnamento, un invito molto complesso. Gli antichi avevano questa grande capacità di narrazioni che introducevano elementi che fanno i conti con la nostra costituente complessità e che si inserisce proprio nel punto in cui l'Homo Sapiens che prende consapevolezza della vita prende anche progressivamente consapevolezza di una necessità di armonizzare i piani quelli dell'immagine quello del simbolismo le cose assumono un significato simbolico e quello della realtà. Narciso nel mito apre un ragionamento della necessaria armonizzazione tra immagine mediazione con la realtà che è il piano dei simboli l'immagine che noi vediamo riflessa nello specchio e che ci rende consapevoli del nostro aspetto che naturalmente rimane sempre un'interpretazione è una sintesi tra ciò che noi siamo e ciò che realmente siamo non preoccupate non è un ragionamento complesso il mio ma è un invito a spostare l'asse altrimenti sapete troviamo anche qui una deriva psicopatologica che paradossalmente vuole curare i narcisisti e quelli che hanno la bassa autostima perdendo di vista che entrambi rappresentano semplicemente l'insensatezza del nostro egocentrismo quell'egocentrismo che quando viene sollecitato a riconoscere la dimensione relazionale che è intrinseca ad una sofferenza di una persona che si sostanzia nella semplice domanda che viene rivolta alle persone che hanno legami affettivi per esempio con un alcolista o un depresso una modalità di cura che sia scevra da ogni forma di egocentrismo perché anche le cure possono riflettere una visione egocentrica ebbene una visione ecologica naturalmente ti porrà una domanda un invito vieni insieme con le persone con le quali hai delle relazioni significative sul piano dell'amicizia dell'affittività e della intimità e voi che avete delle relazioni significative con queste persone disturbate e disturbanti venite insieme e insieme cercate una strada comune per mettervi in discussione invito molto semplice che trova delle resistenze formidabili cosa centro io con il suo malessere quando la scienza ha dimostrato che dentro di lui c'è qualcosa di chimicamente modificato alterato che esiste in lui una patologia che è la risultante di processi di rimozione interiore di traumi dell'infanzia rispetto ai quali io non centro nulla perché tutto avviene dentro ai confini della sua pelle in quelle rappresentazioni degli equilibri neuroormonali o delle topiche freudiane dell'inconscio del superio dell'ess dell'io in questa costruzione molto utile naturalmente nel ricostruire il senso della sofferenza mentale ma che viene oggettivata in una rappresentazione che è molto simile a chi insiste sul riduzionismo c'è qualcosa in lui di genetico di biologico che non funziona quindi per favore voi esperti correggetelo modificatelo fate qualcosa se no siete delle persone incompetenti e cercherò il competente di turno che mi rassicuri e mi estranei da quella relazione allora credo che il narcisismo rappresenti una sollecitazione a spostare l'asse perché il mito di narciso non è una psicopatologia è una narrazione che ci porta agli albori della nostra coscienza che progressivamente deve sostanziare la vita nella relazione è un invito altrimenti se non facciamo questo annegheremo fatto questo però dobbiamo rieducarci in maniera molto intensa profonda radicale sulla necessità di costituirci nella relazione cioè nella dimensione nella quale non si cercano cause della sofferenza espressa non si cercano colpevoli della sofferenza espressa e non si rende neppure il sofferente colpevole del malessere che c'è in una relazione semplicemente è il parlare a voce alta di qualcosa che deve essere rivisitato di qualcosa che si è squilibrato quindi quando il competente della cura vi invita a far questo e magari vi dice sorprendentemente di fare un'esperienza settimanale di vita comunitaria almeno per un'ora e mezza nel quale non solo si ricostruisce una confidenza nelle relazioni intime ma si apre la propria coscienza alle relazioni con l'altro che è lontano dalle tue relazioni intime con il quale non hai ancora costruito un rapporto di amicizia e quindi diventa una palestra necessaria che funziona solo se però tutta la famiglia è presente se qualcuno si estranea poi non può pretendere che le cose non funzionano funzionano solo nella misura in cui ci si libera da ogni prospettiva egocentrica si entra in una relazione di crescita e maturazione insieme nella dimensione dell'amore e della solidarietà e di amicizia e non sono slogan sono l'essenza della vita e quindi c'è una rottura significativa rispetto ai sistemi di cura tradizionali che essendo egocentrici operano di fatto una distorsione del mito di narciso e spingono le persone a una a coltivare una immagine autoreferenziale incapace a cogliere il riconoscimento che nasce sempre dall'incontro autentico con l'altro nella sua radicale diversità che naturalmente non solo noi riconosciamo ma anche l'altro si pone come il soggetto che ci riconosce in questo riconoscimento reciproco si coglie l'essenza della diversità come elemento costituente della vita buona giornata a tutti